Ragazze, buongiorno! Bentornati in un nuovo video! Oggi birthday vlog! Oggi è il mio compleanno, ragazze! E vi ringrazio tantissimo perché oltre a quelli che lascerete sicuramente qui sotto perché vi conosco e siete fantastiche mi lasciate sempre tanti auguri, mi coccolate sempre tantissimo ma soprattutto su Instagram mi state veramente riempiendo di auguri in direct e vi ringrazio veramente siete fantastiche, siete dolcissime e piano piano sto cercando di rispondervi a tutte perché sapete per me siete delle amiche non siete solo il numero o i follower ma siete delle amiche perché molto spesso mi è capitato di sentirvi anche in privato chiacchierare con voi della vita, dei problemi, delle gioie quindi per me questo è community, essere unite, essere amiche poi se ho 10.000 views o ne ho 2.000 non mi importa perché guardate meglio pochi ma buoni io sono contenta perché brutti commenti qui sotto non ce ne sono mai siete sempre rarissimi siamo davvero una bella famiglia e quindi va benissimo così detto questo io oggi non giorno speciale per me sono 37 anni tra l'altro stamattina Riccardo è venuto a svegliarmi con una torta così grossa una sucker che volevano già mangiare stamattina però ho detto un po' pesante al mattino non mi andava tanto stamattina presto mi hanno svegliata proprio prima di portarli a scuola sono entrati in camera con la torta con le candeline 37 mi hanno cantato la canzone mi hanno svegliata proprio così mi sono anche spaventata vi dico la verità ho detto oddio cosa è successo ci ho messo un attimo poi ho realizzato visto le candeline ho realizzato che uno era il mio compleanno e due che era un tanti auguri a te quindi insomma bellissimo risveglio poi appunto soffiato le candeline mi sono baciata tutti quanti poi i bimbi sono le accompagnate a scuola e sono tornata un po' a dormire oggi mi ha lasciata mi ha coccolata così mi ha lasciata riposare e poi siamo stati tanto insieme stamattina tanto abbracciati tanto uniti perché per me è questo che conta il regalo più bello a parte che mi ha fatto già un super regalo che è la sedia lo sapete quella da creator da gaming insomma quella comoda comoda dove adesso sto quasi sempre editando con il computer proprio perché ora sto comoda ed è tutto più bello più semplice più comodo e quindi il mega regalo già è quello però per come sono fatta io che sono una persona veramente molto semplice che ama la semplicità ama stare bene ecco credo che la serenità l'amore siano i regali più belli del mondo poi se ci sono anche dei regalini fanno sempre piacere ma quelli sono un in più ragazze perché guardate quando tutte noi non ci saremo più lassù non ci possiamo portare niente ci possiamo solo portare l'amore l'amore scusate e la gioia nel cuore e basta è la nostra anima che sale il resto tutto il materiale è una coccola in più un'utilità in più un divertimento in più però le cose importanti sono altre sono la serenità la salute finché si può avere e la gioia delle persone che amiamo stamattina scusate se ogni tanto mi guardo intorno ma davanti ho delle macchine che fanno delle manovre strane quindi ogni tanto do un occhiato e ho sempre paura che mi danno un colpetto sul cofano e niente quindi è stato un risveglio super coccole siamo stati tanto insieme stamattina è stato dolcissimo perché nonostante abbia fatto la notte ha voluto passare la giornata con me quindi ha dormito praticamente niente e quindi questo è un gesto veramente bellissimo bellissimo e mi dispiace che ho insistito ovviamente più e più volte di farlo riposare ma niente non ne ha voluto sapere adesso Riccardo è a prendere la bubina Alessandra scusate ho ricevuto appunto una chiamata da Riccardo comunque lui mi sta aspettando con Alessandra perché devono fare due commissioni al car per prendere delle robe e io adesso aspetto Fede li raggiungo li carico e andiamo a casa vi dicevo giornata tranquilla oggi quindi festeggeremo domani la festa più carina sarà domani perché vengono i miei, mia nonna e tutti quanti quindi ho comprato anche un po' di addobbini poi a casa vi faccio vedere e basta aspetto Fede vediamo com'è andata questa giornata vediamo se regge sto telefono perché ho tolto la pinza ragazze perché veramente mi ostruiva troppo la visuale del che ve ne avevo già parlato del parabrezza e quindi ho provato a prendere questa specie di ventosa che ho visto su Amazon quando ho preso le lampade per il bagno l'ho adocchiata lì cercando le lampade mi è comparsa questa ventosa a forma di cuoricino e l'ho presa ve la faccio vedere aspettate magari vi può essere utile con il cuoricino me la sono regalata per il compleanno non fate caso le mie unghie pessime ma le devo fare stasera così per domani per la testicciola sono a posto sta arrivando Fede ci vediamo dopo come ci si sente aver compiuto 37 anni mi sento uguale come quando ne avevo 12 magari non hai cambiato molto che traffico come è andata bene scuola scuola oggi non so ci sono utilità cosa ti stavo dicendo che oggi ci mangiamo la tortina no che buona piace la sucker come no è quella la che abbiamo preso piccola piccola da Mara la piccola c'era la versione pasticcino o la versione torta Enrico ha preso la versione torta però è il gusto identico dentro è cioccolato e arancia tipo non quel gusto un po' particolare per quello stamattina ho detto no mangiamola oggi perché è più da merenda è molto strong come torta quindi per colazione vabbè sì se arrivi fai pranzo ci sono rimasta perché nel kit da compleanno che ho preso non ci sono i bicchieri infatti mi sembrava un po' sottile la scatola cosa ah non te lo posso dire non sono mica io al festeggiare eh lo so ma in un qualche modo io sai che penso sempre anche a voi e quindi però ero convinta ci fossero anche i bicchieri e invece no 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 mi attacco al pifferino no 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 però gli ho detto se mentre andava al Carrefour vedeva a fare dei bicchieri carta eh di carta plastica eh sì non so se si è ricordato se li ha trovati se no usiamo quelli che abbiamo però non ce li ho più tutti uguali perché due si sono rotti dovrei ricambiare questi bicchieri tanti auguri a te tanti auguri a me stessa tanti auguri a me e la torta tutta a me ragazze Federico mi ha fatto la torta di compleanno con il 37 eh con il pongo non male non male sarà gusto zucca o la carota non lo so domani ma siamo auguri a te anche Aaron ma è al contrario ma come il 73 che poi è il contrario anche il 73 è il contrario che meraviglia grazie amore grazie ma no porta male riparto no con il numero giusto tanti auguri a te tanti auguri a mamma tanti auguri a te wow vai sopra e spingi desiderio 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 c'è c'è a dirlo però via vale e pif urra ah vita come dicono all'asilo e viva questo è un assaggio della torta la vera torta sarà aspetta aspetta devo farne una foto domani domani Ale ha un regalino per me sì chiude gli occhi dammi le mani altri che bello ma l'hai fatto tutto da sola si è tutto 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 allora wow allora la parte più difficile è questa è candelina accorta mamma allora l'ho fatto tutto ecco bello quello lo sai ma no ho dimenticato questo non importa non importa allora questa parte me l'ha fatta fede perché mi ha fatto anche un cuore vicino l'ho visto la prima cosa che ho visto era il cuoricino è bellissimo amore grazie chissà quanto impegno che ci hai messo ti ho messo tantissimo impegno tantissimo e poi ci sono altri regali da colorare davvero tantissimo li ha stampati grazie bacio grazie amore è bellissimo adesso me lo metto subito subito nel mio comodino va bene così non lo piegare se è troppo eh ma nel comodino non ci entra così aspetta ce lo piego bene no lo piego bene io va facciamo così guarda uno ma cosa c'entra dai hai mai dato due fette di tono dai che prego no piccola mamma dai no dai no dai dai non cedo no sì no sì Riccardo continua a mandarsi che lui sa che 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 io lo sa lui sa è giusto allora regalino anche per me sempre di Angelo e Pietro che ci viziano proprio con questi pensieri io lo so un bigliettino con l'indirizzo quindi via allora mi ha detto di leggere prima gli auguri finalmente anche tu sei arrivata il 37 fammi compagnia per qualche mese un regalo speciale per una ragazza speciale che ci ha preso il cuore auguroni di un buon compleanno amica nostra ti vogliamo tanto bene da Angela e Pietro grazie mamma mia dunque è sottile aumentiamo la sospanza aiuto dai ma non mi fanno vedere aspetta aspetta no il cd di Mangoni ma è l'ultimo io non l'ho neanche visto ancora è l'ultimissimo no grazie questo finisce in macchina dritto dritto nell'autoradio con la scatola in gru aspetta che lo devo aprire se ci riuscirò mai cos'è? ma cos'è? ma mai mi fai le cerette non riesco cerette dai mi fai male amore 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 metti qua dai metti dentro no tienilo tu si metti dentro e butta no no siamo siamo in quattro cercherò di aprire il cd è proprio tanto aderente è tipo sottovuoto che bello l'ultimo cd di Mangoni l'avevamo preso insieme io e lui che beee ero immobile ok l'ultimo cd di Mangoni era quello con la copertina gialla dove c'è la nostra canzone che non mi viene mai il titolo l'ultimo cd di Mangoni l'ultimo cd di Mangoni no quella è più nuova conta che il nostro cd cosa l'avamo comprato è il 2015 2016 quindi e tra l'altro l'abbiamo anche perso infatti secondo me è rimasto nella vecchia macchina è tipo scatolina vediamo c'è il libricino ti metto a usare le canzoni no ah no ah no pensavo fossero vedi che ci sono i numeri col titolo pensavo fossero i testi sai che una volta lo facevano certo nei vecchici di anni 90 mettevano i testi nel libricino qua praticamente c'è il suo bucchio fotografico quindi va bene dai ma pure i cartoncini c'è proprio ah ci puoi mettere il cd dentro c'è il cd dentro ah ma sono più di uno ma come è possibile magari uno è un cd l'altro lì dentro ci sono due cd due cd magari uno è un cd l'altro è un dvd non lo so due al concerto una mia idea guarda sotto ancora ma ce n'è ancora uno tre cd ma sono tutte canzoni due vite no scusa ha fatto tutte queste canzoni eppure qua dietro mette solo 11 canzoni questo è questo è lui due vite in uno stress allora forse queste sono le più belle di tutte quelle che ha fatto mix più l'ultimo cd può essere potrebbe essere mi fido ma scusa vediamo se c'è scritto cd o dvd stereo no vabbè tre cd cambia un uomo una canzone triste il meno possibile in due minuti mi fiderò ma stasera appunto proibito appunto luce un fiore contro il diluvio ma questo qua in città attraverso te chiedimi come sto come stai? bene no a me sembrano tutte nuove cioè non sono quelle là storiche che conoscevamo noi quindi materia terra materia pelle materia prisma che strano vabbè meglio sono tre cd veniti io c'è anche l'album fotografico non ci siamo cara ma noi i mengoni noi vogliamo mandarci al concerto di mengoni che è a luglio del 2025 quindi e già sono finiti ce la faremo magari ad andarci per luglio 2025 è l'unico momento in cui qua 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 la manina devi mettere qua come nel laccio come nel laccio bello grazie mille davvero questo non mi devo sentirlo grazie grazie a tutti grazie della torta grazie del disegno grazie della torta di pongo grazie del cd grazie della sedia prego grazie a tutti ciao ciao no adesso no aspetta in playback a proposito buon problema è un pentino è un pentino se sentire avvicinatevi avvicinatevi vedete tutti mi sentite tutti ragazzi ragazzi salto salto temporale allora io e fede stiamo facendo un po' di cosine stasera tanto domani non c'è scuola quindi ne approfittiamo e niente vi faccio vedere il kit che ho preso a tema per la festa l'ho preso a tema Harry Potter perché a bim mi piace un sacco ho preso i tovagliolini fatti così poi qua c'è la tovaglia visto che io amo Harry Potter è una delle cose che mi piacciono e quindi ho preso la tovaglia di Harry i tovaglioli piattini ce ne erano due tipi piccolini poi per la torta e questi un po' più grandi magari se devono mangiare le patatine i salatini che sto già facendo adesso vi faccio vedere e poi ci sono anche dei palloncini così anche Ale si diverte e poi c'è anche lo striscione che mi sto scassando da ridere perché Feder stava facendo con l'unghietta uno a uno e poi abbiamo visto che c'era questo che in realtà è apposito però in realtà questo secondo me ci devi mettere tipo il filo dentro una roba del genere e ce lo puoi mettere tipo più facilmente anche anche si si però lo puoi usare con la puntina per togliere i buchini vabbè l'abbiamo scoperto dopo è più borde e non è tanto lungo è più borde si sono tutte scrittine vedete così molto carino quindi pensavamo per avvantaggiarci per domani mattina di fare già i salatini perché poi domani mi devo preparare adesso dopo mi levo questo smalto orribile orrendo orribile vedo se metterne un altro se mettere solo il trasparente chi se ne frega ma è tardi poi viene tardi non è importante adesso vi faccio dei salatini allora pezzettine già fatte ho messo anche dei piccoli pezzettini di wuster perché l'ho avanzato dagli altri salatini al wuster e quindi così sono più buone e più cicciotte e mozzarella questa qua che avevo preso da Lidl per pizza ho messo qualche pezzettino l'abbiamo fatta insieme io e Fed tipo catena di montaggio e queste sono pronte adesso aspetto che si raffreddano e poi le chiudo con la stagnola e poi in forno e poi in forno abbiamo l'oro salatini e ancora tre pezzettine di cui una un po' bruttina che assaggeremo noi questa sera per vedere se sono venute bene già non vi ho fatto vedere le margherite che mi ha portato Fed guardate che belle le ho accolte le ho accolte uno ad una wow hanno ancora più valore allora l'oro Grazie a tutti Grazie a tutti